Musica Hello ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Poki e oggi siamo trovati qui su Super Mario World Nella scorsa parte abbiamo fatto il livello 1 e il bonus, oggi vi accendiamo avanti Ok, ok, molto bene, ok, ah questa cosa, eccolo qua, grazie per avermi salvato, il mio nome e gli osci, sulla mia strada per recuperare i miei amici, Bowser mi ha inzaffalato in questo ruolo, ok, aspetta, ok, ok, molto bene, ok No, gannazione Yoshi, vieni qua No Vieni, 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 vieni Ok Ok Ok, ok, un one up Non potremmo perdere gli osci Non ha nozione Gli osci, vieni, 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 vieni Vieni, 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 vieni è una pianta piranha ok ok bene aspetta aspetta no non so che non so dirvi che ok che carino quel che carino il suo verso ok ah un'azione vabbè ottimo ok ok bene ok 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 Va bene va bene Aspetta Ok 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 Ottimo Ok Ok Molto bene Devo prendere bene la mira Vai Ok Ok Oh Oh No No Eh Non ci poteva essere uno sbaglio no Ok 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 No Aspetta Ok No Ok 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 Aspetta Ok Bene Bene Dobbiamo aspettare qui Hop 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 Ok 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 Quando salti su un nemico Puoi saltar Puoi saltar Puoi saltargli addosso Puoi saltargli addosso con Premendo il bottone Usa su Sul sul control pad Per 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 saltare Per saltare sull'acqua Vabbè Vabbè Avrò 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 Aspetta Aspetta Ma Vabbè Non è che ci importi tanto delle monete Ok Ok Vai Vai Meno male che ho Hop Aspetta Ah Vai Ah Ok Ok No 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 Oh Per fortuna Mi fai Mi fai ripartire dal checkpoint Ah Ok Ok Vabbè Vabbè non Vabbè tanto posso Puoi saltar Tanto posso Puoi saltar Qua Qua Ok Spendiamo bene la La Mira No Ok No 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 Long Non Poi No Poi 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 da less up up ok bene ok vai ok ok vai bene vai salta ok ce l'abbiamo fatta benissimo bene ragazzi e l'eri per questa parte può essere tutto spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video ciao